Qui nella sede di Via Bellerio si sono riuniti Umberto Bossi, Roberto Calderoli, Roberto Cota è arrivato anche il vice tesoriere Roberto Castelli e si è in attesa dell'ex ministro dell'interno Roberto Maroni l'unico che questa mattina ha parlato e ha detto tutto quello che è successo si poteva evitare se quel 22 gennaio quando è stata chiesta chiarezza proprio sul tesoretto che sarebbe finito in Tanzania e in Corone Norvegesi ebbene quando il Consiglio federale ha chiesto chiarezza se lì ci fosse stata forse non si sarebbe arrivati a questo punto anche l'ex ministro dell'interno auspica un passo indietro del tesoriere Belsito staremo a vedere di certo oggi si farà il punto anche perché la vicenda diventa ancora più scottante considerando che parte dei denari sarebbero stati distratti per aiutare direttamente la famiglia di Umberto Bossi ovviamente sono accuse che devono essere confermate e quanto ha detto lo stesso Belsito questa mattina mentre gli agenti della Guardia di Finanza dei Carabinieri perquisivano la sua abitazione a Genova staremo a vedere nel corso del pomeriggio quali saranno gli altri sviluppi e le eventuali decisioni che appunto verranno prese qui dalla sede della Lega